Ad un anno dal conferimento della delega ai rifiuti, con il consigliere comunale Luigi Mele negli studi di TV City, tracciamo un bilancio della situazione in città tra criticità e inadempienze. Un anno sicuramente complicato, un settore difficilissimo in cui non si trova assolutamente pace. La nostra città da sempre, purtroppo, sale agli onori televisivi per problemi di nettezza urbana. Un anno in cui ci sono stati degli alti e dei bassi, abbiamo messo in campo varie iniziative. Stiamo cercando di trovare una quadra finché è possibile con questa azienda che chiaramente ci crea tanti problemi. Sono state fatte alla ditta per il mese di gennaio circa 200 mila euro di sanzioni, che chiaramente la ditta non vuol pagare e che comunque noi cercheremo di, o meglio, toglieremo dal canone prossimo che gli deve essere pagato. Questa cosa chiaramente, fin quando non vedremo un servizio fatto a regola d'arte, come prevede il capitolato, continuerà ad andare avanti. Sono sotto gli occhi di tutti, infatti, le difficoltà e le carenze del porta a porta, considerato da molti un sistema non applicabile su questo territorio, che potrebbe invece fruire di un sistema misto. L'ideale per la nostra città, viste anche le dimensioni, è quello di un sistema misto, con delle isole ecologiche controllate sul territorio. Isole ecologiche che però non devono essere quelle che abbiamo visto all'epoca. isole ecologiche che danno la possibilità ai cittadini, qualora non abbiano la possibilità di metterlo fuori casa, ma hanno la voglia, la volontà magari di spostarsi di qualche metro o di qualche chilometro, magari danno la possibilità a questi cittadini di poter sversare in maniera comoda. Chiaramente diventa difficile nella nostra città, visto l'agglomerato urbano, di trovare la possibilità di trovare punti idoni a fare questo tipo di attività. Al momento abbiamo dei punti di accolta ingombranti che abbiamo su via Circonvalazione, Altezza Chiesa dell'Annunziata, e l'altro punto a breve sarà aperto in Santa Maria la Bruna. Chiaramente in questi punti è possibile ancora buttare ingombranti e rae, legno e quindi tutto ciò che è previsto. Non è ancora possibile buttare l'umido, perché chiaramente per l'umido è necessario un altro tipo di punto di raccolta che diventa un po' più complicato in questo momento. In un prossimo piano industriale sicuramente cercheremo di andare in questa direzione e cercheremo di far sì che magari si possa conferire anche in maniera più comoda, soprattutto per il centro, dove magari gli spazi non sono del tutto idoni per fare un porta a porta e dove chiaramente i cittadini hanno grossa difficoltà. Lo scorso venerdì in via nazionale è partito lo spazzamento della strada, ma non si comprende la logica degli orari e dei giorni scelti, né tantomeno le modalità operative anche per quanto riguarda le auto in sosta, con grossi danni per i locali e le attività commerciali della zona. È stata una di quelle iniziative che abbiamo messo in campo con il comandante Visone, lo spazzamento con dividere di sosta, perché in effetti ci siamo resi conto che senza dividere di sosta anche con l'utilizzo dei soffioni non riuscivamo ad ottenere il giusto contributo da parte di chi doveva fare l'attività. Chiaramente il dividere di sosta comporta quest'altra problematica che è quella di dover rimuovere le macchine dalla strada e quindi avere problemi di parcheggio. Senza contare il fatto che la spazzatrice è passata con cumuli di rifiuti ancora non raccolti e molti cittadini sono stati anche multati. Niente, io sono venuto a trovare un amico e ho messo la macchina qui al parcheggio dove regolarmente si metteva, sono sempre messo. Poi affacciandoci dal balcone per lì ha messo le multe, per cui ha messo anche la multa nella mia macchina, dicendo che doveva stare... Io capisco qualsiasi cosa, però un avviso migliore, qualcosa... Poi io non capisco, io sono sceso, ma potrei pure togliere. Cioè sono io, non è che stavano poi 50.000 macchie, tu dici, per carità, ora dovrò pagare la multa, la pagherò, per carità. Però mi pare una cosa proprio... E' anche tagliandino dei disabili? Eh sì, tagliandino dei disabili, sicuro io, sì. Io l'ho messo qui, me l'ho messo perché per far capire comunque che ho un'esigenza di stare il più vicino possibile alla cala... Però non è qui, il discorso non... Quanti c'erano anche altri parcheggi... Non solo lei è stato bussato, comunque... Non, 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 non vedo la legge... Poi tra parentesi io capisco pure il lavoro che devono fare. Sono scese anche, hanno fatto togliere le macchine. Sono sceso anch'io, potevano anche evitare di farmi mettere la multa. E' stato questo un primo appuntamento, quindi cercheremo chiaramente di migliorare in base ai suggerimenti, in base a quelle che sono le segnalazioni avute. Magari, soprattutto perché di venerdì sera, quindi le attività commerciali, i ristoranti, i pub lavorano di più in quella giornata. Quindi cercheremo magari di iniziare lo spazzamento un po' più tardi e quindi di conseguenza il divido di sosta magari a inserchie partite dalle 22 e dalle 24. Chiaramente la nazionale è un tratto molto lungo, quindi è stato diviso in più zone e abbiamo deciso di fare a destra e a sinistra perché poi diventava complicato di tornare, mi so che si parcheggia ambo i ladri, diventava complicato di tornare poi il giorno dopo a fare l'altro lato. Già invece nelle altre strade un po' più piccole, tipo Cesare Battisti, via Calastro, via Monsignorio Felice Romano e il Corso Vittorio Emanuele, che saranno spazzate questa sera sempre con il sistema del divido di sosta, si farà questa sera il lato destro della careggiata e domani sera il lato sinistro, così daremo la possibilità magari ai cittadini di poter parcheggiare da almeno un lato. Chiaramente questa è una di quelle attività che da una parte fa bene, dall'altra parte può creare qualche problema, però ripeto siamo disponibili a qualsiasi tipo di segnalazione e quindi poter migliorare quanto più possibile l'attività. L'importante è che magari iniziamo a vedere la nostra città un po' più pulita, è giunta segnalazione alla nostra redazione di alcuni dipendenti della ditta che sono stati trasferiti in altri cantieri a seguito di un incontro avvenuto proprio in comune. Sembrerebbero questi dei provvedimenti illegittimi e senza logica? Sì, diciamo questa cosa che ci è stata segnalata, sono stato presente io con il sindaco e con l'assessore Cinzia Mirabella ad un incontro chiesto dai sindacati con l'amministrazione e in effetti poi abbiamo saputo che il giorno dopo questi ragazzi sono stati trasferiti su altri cantieri. Chiaramente questo è un messaggio non del tutto piacevole perché se i dipendenti hanno problemi con una ditta, assolutamente l'amministrazione non ci può entrare e non ci deve entrare, però siamo comunque la stazione appaltante, quindi siamo chi in qualche modo paga questo servizio e quindi se ci sono delle discrepanze tra l'uno e l'altro comunque noi dobbiamo essere a conoscenza. Chiaramente abbiamo chiesto alla comandante della Polizia Municipale e al DEC Francesco Liguori di capire che cosa fosse successo e per quale motivo questi ragazzi sono stati trasferiti su altri cantieri viste le esigenze che abbiamo sul territorio, anche perché poi sono persone che fanno parte del cantieri di Torre Greco, sono cantierizzati a torre, quindi sono persone che paghiamo noi e non si capisce il perché devono andare a lavorare in altre città. Attendiamo risposta da parte della ditta su questa questione, come su tante altre questioni che stiamo ponendo giorno per giorno. La ditta in questo momento ci sta comunque creando tante problematiche, perché gli uffici stanno, come già dicevo, sanzionando tutto ciò che non funziona e speriamo che in questo modo la ditta riesca a capire che il servizio va fatto come previsto da capitolato, da contratto e che quindi non possiamo assolutamente andare in altre direzioni. Pello che faccio ai cittadini, noi facciamo il nostro dovere, gli uffici cercheranno di fare il proprio dovere sanzionando la ditta se non fanno la giusta raccolta come prevista. Pretendiamo il porta a porta perché il comune paga il porta a porta. Se la ditta non fa il proprio dovere, viene sanzionata la ditta. Se il cittadino non fa il proprio dovere, purtroppo dobbiamo sanzionare il cittadino.